chi che vuoi?! ora, vai a chiamare il Dottore eh, eh sì, faccio un po' il Dottore, venga, ma con il Dottore c'è nessuno? avanti Dottore, ma con, dottore mia moglie stava con la bocca aperta dopo un topolino allora facciamo così io adesso preparo la borsa con tutto il materiale e tu nel frattempo vai a casa fai stendere il tuo amore sul letto bocca spalancata poi prendi un pezzo di formaggio e glielo metti davanti alla bocca io sto arrivando va bene un pezzo di formaggio davanti alla bocca va va bene io sto arrivando il tempo di sfogliarmi il romano la puntina quel ciocca un pezzo di formaggio un pezzo di formaggio aspetta ora viene il dottore aspetta è uscito è uscito prego prego aspetta ma che sta facendo ma quello è un pesce è un pesce io le avevo detto di mettere un pezzo di formaggio la signora ha invogliato il topo e quindi ci vuole il formaggio il formaggio no cioè lo so che ci vuole il formaggio ma ma sto cercando di tirare fuori il gatto nel frattempo il topo ha tirato il gatto e pure il gatto capita meno che abbiamo chiuso il cane buona fido spingi spingi no no Grazie.